Un tasso alcolemico di gran lunga superiore alla media consentita durante la guida è stato riscontrato in seguito ad un controllo di un trentenne di origine rumene alla guida di un tir in A14 nell'ambito provinciale pesarese. Numerose le segnalazioni di automobilisti che si sono imbattuti in quest'auto articolato che procedendo ad alta velocità proseguiva in uno slalom tra le corsie a fari spenti. Intimato a fermarsi subito dopo il casello di Fano, l'uomo ha ignorato l'alta della polizia che solo qualche chilometro dopo è riuscita a bloccare il mezzo dal quale è sceso l'autista che ha da subito manifestato serie difficoltà a stare in piedi in un evidente stato di ubriachezza. 2,70 grammi per litro contro lo 0,5 concesso dalla legge. È questo il tasso alcolemico riscontrato all'autista che è stato condotto all'ospedale di Senigallia e indagato con immediato ritiro e revoca definitiva della patente di guida. E una multa fino a 9.000 euro. Analoga sorte ma con sanzioni meno gravi qualche giorno fa per un giovane di terre roveresche che poco prima dell'alba è stato fermato per eccesso di velocità in pieno centro storico a Fano. Sottoposto a controllo è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,50 grammi per litro. Ben 5 volte la soglia massima consentita.